Una pianta geneticamente modificata in grado di resistere alla siccità. Un miracolo della tecnologia per alcuni, un disastro ecologico per altri. La scoperta che potrebbe rivoluzionare l'agricoltura è di un gruppo di ricercatori argentino. Un sogno per gli agricoltori locali, grandi produttori di soia e alle prese quest'anno con una grande siccità. Ugo Iturraspe è il rappresentante dei coltivatori della zona di Santa Fe. Io sono convinto che grazie alla sicurezza del rendimento che danno queste piante resistenti ci sarà una forte espansione delle aree coltivate. E proprio questo è il timore degli ambientalisti che ricordano i disastri creati dalla soia transgenica in Argentina negli scorsi anni e inoltre temono anche l'ampliamento sconsiderato delle monoculture. Non esiste più gente nei campi, non vive più nessuno. Nessuno vive più in campagna, tutti migrano in città, dice Carlos Marensi, vicepresidente del centro di protezione della natura di Santa Fe. Non solo perché la soia necessita di poca mano d'opera, ma anche perché le conseguenze dell'utilizzo dei prodotti chimici spingono le persone ad allontanarsi. L'Argentina pensa di mettere in commercio questo tipo di grano, fomento e soia transgenici a partire dal 2014. Grazie 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 Grazie